Ma quali sono le autostrade più lunghe in Italia? Al primo posto troviamo ovviamente l'autostrada del Sole, che con i suoi 760 chilometri connette Milano e Napoli, passando per Bologna, Firenze e Roma. È seguita a breve distanza dalla sorella minore, la A14 Adriatica, che si estende per 743 chilometri da Bologna a Taranto, passando per Ancona, Pescara e Bari. Al terzo posto la A4 Torino Trieste, che attraversa l'intero Nord Italia con una lunghezza di 522 chilometri. Quarto posto per la A2 del Mediterraneo, 433 chilometri da Salerno a Reggio Calabria, naturale estensione verso sud dell'autostrada del Sole. Il quinto posto è per la A22 del Brennero, 313 chilometri che partono da Modena, passando per Verona, Trento e Bolzano, principale via di comunicazione tra l'Italia e l'Europa centrale.